Venezia, se ci sei, batti un colpo. Potrebbe essere questa una frase riassunto di comodo per inquadrare il caso Catullo. La verità dei fatti, come sempre, è molto più articolata e nonostante l'ulteriore difficoltà legata alla crisi sanitaria del Covid-19, la narrazione sulla mala gestione del nostro aeroporto cittadino ha un curriculum che si sviluppa molto prima della pandemia. La Lega di Verona, questa mattina, ha voluto riportare la vicenda al centro dell'attenzione in una conferenza stampa partecipata e di programmazione. Servono risposte da Save. Assolutamente, ma quello che noi chiediamo è che Save nomini un amministratore delegato dedicato al Catullo, quindi una persona che si occupi a tempo pieno del nostro scalo, e poi chiediamo un ripristino dell'ufficio commerciale aviation, visto che uno dei problemi principali del Catullo è la mancanza di collegamenti, per cui serve questa struttura che poi sia in grado di far diventare Verona attrattiva per avere la possibilità di avere più compagnie e più collegamenti che volano sul nostro scalo. Le polemiche lasciano il tempo che trovano e soprattutto noi non siamo qui per polemiche o solo per criticare. Noi ci siamo, siamo a disposizione, ho anche la presunzione di dire che siamo quelli che conoscono meglio il territorio, per cui ci siamo e chiaramente ci auguriamo soprattutto che la parte di Save ci sia la volontà per risolvere i tanti problemi del Catullo. A novembre, ultima mensilità per la quale sono disponibili i dati, il Catullo ha fatto 18.000 passeggeri circa, con una contrazione del 90% rispetto all'anno precedente, quindi questi sono i numeri che sono in linea con la media nazionale, però chiaramente sono dei campanelli d'allarme e quello che noi in passato e anche oggi rileviamo è che comunque all'interno del sistema aeroportuale del nord-est negli ultimi anni Verona non è cresciuta mentre altri aeroporti decollavano, scusatemi il gioco di parole, per cui ovviamente adesso i nodi sono arrivati al pettine, noi non stiamo qui a far polemica, non vogliamo piangere sul lato avversato, però vorremmo delle risposte e soprattutto in tempi rapidi, anche perché la stagione estiva che gli operatori turistici di Verona, del Lago di Garda, della Valpolicella della Vessinia e delle altre province soprattutto stanno aspettando, per cui chiaramente vorremmo effettivamente che ci fosse qualche segno di vita alla parte di Venezia.